Cosa significa arrivare alla pubblicazione di un libro grazie ad una campagna di crowdfunding? Ce lo spiega Benedetta Bisaccioni che con il suo romanzo Chiasmo ha raggiunto questo importante obiettivo. Il libro è stato pubblicato con Bookabook che è una casa editrice di Milano che si avvale proprio dello strumento di crowdfunding che è stata un'occasione di condivisione del libro che poi ha raggiunto il numero necessario alla pubblicazione grazie al contributo di coloro che sia da un punto di vista economico ma anche poi a livello di creazione di contenuti e di sostegno e di affetto, insomma, ce l'abbiamo fatta. Chiasmo è un romanzo che a partire dal suo titolo ci parla di relazioni intrecciate e che servono a far crescere. I personaggi sono tre, due maschili e quello femminile che è poi la voce narrante. I personaggi maschili si chiamano Arturo Bernardo e Bernardo Arturo, questo crea sempre un po' di confusione però poi le iniziali ripropongono quello che è lo schema del Chiasmo rappresentato poi nella figura retorica ma anche usata nella scultura per dare stabilità e al tempo stesso percezione di movimento. È un libro tendenzialmente di introspezione, quindi il personaggio femminile ha una storia, una relazione prima con Bernardo e poi con Arturo e quindi che è un'occasione per lei di capire qualcosa in più di se stessa quindi relazione d'amore ma più che altro.